Questa volta non farò le solite tre domande che introdurranno all'inizio del contenuto odierno perché vorrò farle io a voi coinvolgendovi nello sviluppo dei futuri contenuti di fab che arriveranno sul canale. Signori bentornati sul canale con il nostro quinto appuntamento di cosa accade al di fuori del crogiolo. Nella puntata di oggi faremo quattro chiacchiere per scoprire quali sono le vostre richieste per sviluppare nel migliore dei modi ogni argomento settimana dopo settimana. Richieste che verranno annotate una dopo l'altra su questo quaderno il mio Sancta Sanctorum dove fisso su carta il palinsesto dei futuri contenuti. In effetti il video di oggi durerà relativamente poco e mi scuso con l'intera utenza che magari si è abituata a contenuti massicci che sono normalità qui sul crogiolo ma dati gli ultimi impegni lavorativi e di vita privata ho deciso di prendere la palla al balzo per chiedere a tutti voi che mi state guardando in questo momento quale contenuto vi piacerebbe vedere qui sul canale riguardante Flash and Blood. Alcune opzioni potrebbero essere guide su ogni eroe, collaborazioni con altri youtuber, match di dimostrazione, dubbi o perplessità sul regolamento e chi più ne ha più ne metta. Sentitevi completamente liberi di chiedere qualsiasi cosa che riguarderà il mondo di Raid. Prima di concludere, piccola informazione di servizio. Domenica 20 marzo, presso l'arena di combattimento allestita appositamente nella fantastica location dell'Arcade & Food, si terrà un grande torneo formato blitz organizzato dalla fumetteria Golden Store Talenti in collaborazione con lo stesso Arcade, con il supporto del Keyforge Network di Matteo Pirisi, Daniele Frattarelli e Daniele Casali. Presenti in loco ci saranno i combattenti più promettenti del palcoscenico romano, Pietro del canale Flash and Blood Italia, nonché campione italiano in carica ed il sottoscritto che lo accompagnerà al tavolo streaming per fornire il commento tecnico durante i numerosi scontri all'ultimo sangue che si terranno durante l'evento. Restate sintonizzati perché a breve arriveranno maggiori informazioni a riguardo. Vi aspetto numerosi. E voi, quale contenuto o contenuti vorrete vedere? Ne avete uno in mente che non è stato ancora trattato sul tubo? Cosa state aspettando? Vi invito come sempre a farmelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare aggiornati sulle nuove uscite settimanali, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.